Vi propongo l'annuncio pubblicitario di questa vasca, che veniva costruita a Milano nel 1899. Fra i diversi apparecchi per bagno, nessuno ha avuto maggior successo del bagno ad ondolo patentato. Questo bagno, unico nel suo genere, s'adatta meglio di qualunque altro a tutti i bagni igienici, per la sua forma speciale, che permette al corpo di sdraiarvesi come in una poltrona, il volume ne è ridotto al minimo ed il bagno ad ondolo può essere collocato in qualunque piccola stanza. Con poca acqua, tre o quattro secchie, si fa un bagno rinfrescante a onde, che rinforza i nervi, e, secondo la quantità dell'acqua che vi si mette e la posizione della vasca, vi si può fare un bagno completo di dorso, semicupo o bagno da bambini. La costruzione è tale che l'acqua non si spande durante il movimento.